oh v*****o sono al mille lo vedo doppio ah no è uno e lo vedo triplo ok è morto sì dove c'era ma io sono rincoglionito cioè continuo a sentire tutto che fischia sento l'audio basso e l'ho fatto ma ci provo ancora ok ci sei? sì begin deployment condividi ah te l'ho già caricato minchia ok allora minchia di brutto tutti ma sono i server proprio ah sì attrezzato sono attrezzato anch'io andiamo a vedere dobbiamo fare le stesse quest quindi sì sì allora lost and found find canoa sirama non ti dice dove leave no man behind anche qua mark the location of the body locate the body little bird down find the crash of the helicopter south of the gas station quindi se vado sotto allora la gas station dovremmo sapere dov'è teoria ok quindi sotto la gas station tipo a 200 nel quadrante 200 159 dovrebbe dovrebbe esserci construction shop quindi construction eh no noi siamo andati in construction site ma non era uno shop è che il sito era in costruzione poi c'era il convenience store a warehouse water tower zoom un po' non li vedi? ah sì sì li vedi sono io che non li vedo water tower lumberyard no sotto construction site sotto construction site ehm come no ah beh construction site è esattamente sotto no a destra di convenience store zoom un po' di più che non vedo una cippa è al massimo? allora aspetta che apro vabbè vedi convenience store che è un grosso edificio ecco quello lì a destra del tuo mouse quello esatto è construction site c'è sì e in più find eh E' un clerk in a local construction shop, come as I've seen, in the final stages of the evacuation. In the back yard, around the town hall, it's a... Si, dobbiamo girare un po' in mezzo per scoprire i luoghi, cominciamo magari dal gas station, che è più... che è quello che più o meno sappiamo già. Vediamo se ho il marker... Papparavà? No, ce l'ho qua. E me lo schiaffo qua. Ok, partiamo da... non so, alfa 1? Alfa 2, sembrano... alfa 2 forse... Sembrano vicini uguali, abbastanza. Se tu non hai cliccato quando stava arrivando... Quando... Quando... Cioè... Quando tu selezioni la landing zone... Si, si, sono qua. Ma non ti fa salire. Perchè, in teoria se... Quando clicchi sulla landing zone, in alto a destra ti fa o chiamare l'elicottero, oppure... viene fuori qualcos'altro perchè l'ha già chiamato. Se tu qui... Chi li è? Non so... Come se ti prenoti, credo. Per cercare. Sì. Sì. Ah, belli scantoni! Che bella! ma veramente è passato da L2 sì, alfa 2 a questo punto ci potrei lasciare lì ma il cazzo stanno andando perché? sì, esatto ok ma io faccio comunque 540 fps e lag se è lag è dovuto essere perché si è fermato? come è meglio parte? sì, sì, ti vedo ma in teoria non è che dovremmo entrare dobbiamo passare non c'è 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 ma da che dire? da che direzione ti sto sparando? non c'è direzione cardinale non so quale sia l'ingresso no 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 perché io sono entrato sul retro tu sei entrato dall'altra parte quindi è forse di qua verso nord che tra l'altro dove dobbiamo andare noi ma li ha seccati? sento che parla qualcuno ancora ah a scendere nella vita reale ok mettiti dentro la casa che sennò sei in pericolo ah qua quando usi il surf ti puoi spostare eh aspetta che ti vengo a coprire io sono entrato da qua dietro curami il corpo morto lì dove c'è quel cancello verde lì dietro quella pianta a destra c'è un tizio se vai a destra quello è morto lì c'è uno quello che mi ha seccato mentre stavo lutando tutti vieni che c'è la mamma è venuto di qua pepe è venuto di qua ergo pepe è il mio non è un biscotto ah 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 eh lì stavo lutando si stavo lutando questo grazie questo è Raven bingo fuel rgb ah arrivo ah 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 ci avranno ah giusto ehm la frapp ha prenotato al lord baron alle 8 ho detto che sono aperti comunque ci avranno anche il rinculo a cazzo alcune armi su Tarkov però la sensazione e il feeling di quando spari secondo me è molto migliore ah 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 papam papam papapam se allora la ok si dobbiamo andare di qua in realtà non dobbiamo passare da lì ah 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 sono sotto la gas station sotto tipo il quadrante sotto tipo il quadrante sotto si si amore oh no faction unknown you've been reported for killing uno della same faction eh mi dispiace dove stanno? nel cestello e ce n'era uno lontano e pensavo di pensavo di avere che fosse un tizio qua invece era uno della nostra fazione mi dispiace ma non non ti dispiace non ne Cosa c'è? Una specie di... un elicottero schiantato? Ah ma è pepe! Uno, uno, l'altro mi sa che... C'è uno che tra l'altro mi sta parlando qua. Tu dove sei intanto? Ah qua. No, non sei 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 qua. No, sto ancora cercando ma... No, non sei qua. Forse è qua dentro, sì. Eh, forse sono questi i corpi che dice. Uno, due... Sento degli spari da nord. Non so che cazzo sia. Ma riesco a farlo come genere. Sì. Eh, non lo so. In teoria bisognava scoprirli, qualcosa del genere. Forse bisognava marcare... Vediamo. Find the crashed helicopter south of the gas station. No, dobbiamo proprio trovare l'elicottero. Invece in un'altra... Mark the location of the body, ma... Ah no, questo era quello... Town Hall. Quindi sarà in centro città, non è qui. Eh... Qua dobbiamo semplicemente trovare, in sta zona, sotto gas station... Un elicottero. Ma... Qui sta... Sta arrivando... Sta arrivando un tizio. Non so, magari lo sta cercando anche lui. Hello? Dove è finito? Vai. Non ha... Ma ha risposto? Perché io non l'ho sentito. Ah. Volevo chiedere lì se sta... Se sta cercando l'elicottero anche lui. Potevamo cercarlo insieme. Oh, grande! Chi? Friendly... Friendly Fire. Sì. È morto. Perché? Mi ha scordesso. You were kicked from the server. Kill too many friendly players. Non si può vendicare uno. Ma non è giusto. Dovrebbe essere come gli scav. Vabbè. alcuni dei condomini non sono stati pronti ancora. Dovete portare senza loro? E no! Che palle! Non posso entrare finchè tu non esci, non ritimiamo e rientriamo. Non so. Non so. No! Non so. Non so... Non so. Non so. Non so. Non so. Poi nel menù faccio 125 fps, però eh! Quindi sicuramente le implementeranno perché sennò la gente bestemmia. Quello lì era nudo e ti ha ammazzato. Non aveva niente quello. E quindi adesso sta raffreddendo... Anzi no, non è vero, l'ho ucciso, l'ho ucciso. Però in teoria... No, io vedo che non ho equip nel menù, quindi probabilmente è come se fossi diventato un cadavere. Prova a controllare. Però no, secondo me... Eh sì, non ci sarà il mio corpo perché mi ha buttato fuori, ma ci sarà il mio lutto. Mani non è vero. Perchè tu sei già al 3? Beh, livello, no no mi ricordo io dov'era, tu ti ricordi dov'era la, si vai dove c'è la casetta, lì più a sinistra, 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 però va ancora più a sinistra, forse è lì, lì a destra, 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 destra. Fermo, fermo, girati e basta, girati e basta, destra, dietro di te, dietro di te, no queste sono, ah si sei tu, ah qua vedo meglio io che te invece che Tarco, fai conto che fai prima? Eh, io invece ho perso la roba, vabbè, fa niente. Devi, vai dove c'è un elicottero, vai dove c'è, ah lì c'è un elicottero, ah lì hai scoperto un altro exfil, si ma devi andare vicino, devi andare vicino prima al tuo cosa. Sì, devi marchiarlo. Ok, no, no, non credo. Quella, quella, sì. Find out what happened to the rest of the crew. Ah, sì, poi bisogna entrare in una casetta, vabbè, adesso tanto ci torniamo. Il problema è che dato che la partita è tutta una partita unica non posso riequipaggiarmi, riequiparmi finché non... Io non ce l'ho quel punto di, quell'alfa lì, cos'è, l'alfa 3? Non ce l'ho io, quello. Non ce l'ho io, quello. Allora, allora adesso lo chiami tu, così siamo più vicini. Bene, get in, go! Strap in, we're heading out. Get ready for one minute. Organic close, 30 seconds. Bene, get ready for one minute. Ehm, fallo dopo, così intanto che tu lo fai io mi resto. Era, era da lì, sì, in alto a destra, esatto. Sì, no, è tu, 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 no. No. Otto. Sì, aspetta che ho appena messo il mirino C'è, c'è Ah, ho un altro M4 Ma tu quello l'hai fregato a me? Va bene, metto questo Tutto un po' sbagliato Scusi 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 Ah, no, soldi. Vendors. Candi. Vende. Caratter. Ok. Vorrei avere tutto. Va bene. Vai pure. Sì, ancora non lo vedo quello lì. Allora. Exville, confirmed. Raven enroute to base camp. This is Raven, arriving shortly near your position. ETA, 30 seconds. Uno si chiama Makumbankulu. Chissà di dov'è. Lo vedi dalla mappa. Perché è verde. ETA, che, è stato percibire. ETA, che. È stato percibire. No, no. Uniscutile, un minuto. Uniscutile. 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 Ah, ti sei preso il mirino? Dei togliere il coso davanti. Ah, 150 experience, perchè adesso ce l'ho anch'io. Non so se la lag, ma il vaulting sta andando di merda. Vediamo se c'è da qualche parte ancora il mio corpo. Tanto no, perchè sono uscito da serba. Non so se la lag, non so se la lag. E' strano. Era un tipo quasi, no infatti non c'ha. Bevi, bevi. Ora, quello da taggare. Locate the body e mark the location of the body. Town hall. Ah, niente, dobbiamo andare in centro. Dove c'è scritto Falang? C'è scritto Falang. E' strano, si, anche se sono là. Sì. oh, c'ho il puntino ma si può cambiare il cosolografico non so come ma c'ho un pallino adesso guarda no, non la vedi sullo schermo? c'è ancora questo no, quello a destra è morto ok brillo mettendoci due secondi mi sono portato pochi colpi oh, sinistra anch'io perché uno mi ha sparato medium wound light wound ecco perché sentivo casino perché c'ho il tuo audio ha girato l'angolo a destra e mi ha sparato quel puttano lì in mezzo alla strada morto quello lì esatto coloro lì in drittura trete medium wound in pain usiamo l'antitolorifico sennò vedo doppio continuo a vedere doppio e non sento niente dal mio audio tra l'altro perlota c'è perlota c'è ma io non sento niente non capisco perché ah, è dovuto andare ok sì, ma basta 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 non capisco perché un terzo un altro ahia ci sono c'è un altro lì a coprire oh minchia sono il 1000, lo vedo doppio ah no è uno e lo vedo triplo ok uno è morto si l'unico che c'era è morto però io sono rincoglionito cioè continuo a sentire tutto che fischia sento l'audio basso e l'ho fatto ma poi ci provo ancora mi diceva comunque medium wound quindi comunque l'ho già trattata perché non dover far più niente sono nauseato nauseous e coughing dobbiamo avere un po' oh tu c'hai coughing oh 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 porco dio mi ha ammazzato ah si guarda la mappa per vedere un attimo se per vedere dove sono così intanto respawno mettiti il mettiti il il waypoint ok intanto ah ma cos'è che ti veniva fuori scritto se ci passavi sopra? cosa? e va bene torno al campo non 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 Ravon here, I'm moving out. PTA 30 seconds. Tu sei dove c'era il corpo? Io non ho armi né niente, quindi muoio. Se mi riesci a scortare... Ah, vabbè, niente. Eh, ma io devo recuperare la roba del mio di corpo, non mi interessa quella degli altri. Ma dov'è il mio corpo? Guarda la mappa un attimo che guardo anch'io. Ok, arrivo. Ravon. Grazie. Grazie a tutti Grazie a tutti Andiamo a prendere un'arma da sti cadaveri Ah sei tu minchia Ah no allora che cazzo di Di roba prende No 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 il mio corpo è il mio corpo Ma come no? Avevi messo il waypoint apposta Aspetta dove sei? Allora No ero No no io ero in campo aperto Non ero qua No vado più Eravamo abbastanza vicini alla A O no? Sopra dietro di te Sono passato oltre la recensione Eh vedi questo mi aveva ammazzato Forse era questo che mi aveva ammazzato E io ero Di qua forse Sì sì L'ho visto anche Ma che cazzo Ho bisogno di cure Ho bisogno di una benda Cioè non è necessario che me la dai Mi puoi curare tu proprio Sto sanguinando Nel caso 8 Guarda Destra Lì dentro Era giusto lì Lì Sì Sì Thank you Ora devo solo Sì sì Devo Solo recuperare la roba del mio corpo No perché c'era il tizio lì Oh Non mi ricordo Da dove cazzo Avevo sparato Mi sa che ero in quella zona là No io non ero nel Io ero dove c'è la terra C'è Mi aveva ammazzato uno Qualcuno parla Ah ce n'è uno qua Due Uno è andato E l'altro no Comunque Eh aiuto Capito che gli frego l'arma Oh è vivo È vivo È vivo È vivo Io gli sono andato incontro Ce n'è un altro Morto Ma porco dio Basta Mi sono rotto i coglioni Cercare di sto corpo di merda Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Un altro Un altro Un altro Grazie. Ho sbloccato una maglietta. Non lo so, magari con la quest, un delle quest che abbiamo fatto. Comunque... E adesso prendo l'elicottero in Alpha-3 e ti raggiungo. Rayman, l'ho usato con base camp. ETA, 3-0 seconds. 3-0 seconds. Minchia di 30 secondi, che cazzo di minchia vuol dire? Anzi, ho capito cosa vuol dire. Scabba. Scabba. Rayman, on station, e ready to pick you up. Scabba. 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 ho trovato qualcosa nel frattempo no, non esiste più il mio corpo io sono morto e quindi quello di prima è sparito no, non è vero arrivo da sud comunque ma da alfa 3 sì sì, certo e il mio secondo corpo era mudo quindi ho perso tutto nel frattempo magari guardate in giro cerco di vedere se e credo un corpo e poi dobbiamo taggare anche ne so prova a vedere prova a leggere la quest magari è più descrittiva oi che poi senza stare senza stare ad usare le le guide alla fine così anche più divertente dove cazzo sarà il municipio proviamo quello in 201 161 tipo quello col tetto rosso può darsi ti ho sentito tra l'altro ti vedo attraverso ah no non sai tu è un altro morto l'hai seccato quello che ti sparava o sta arrivando eh si sembra proprio questo ti vedo si 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 nel backyard sarà qua dietro l'hai seccato 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 sentito Grazie a tutti. 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 Niente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quanto abbiamo... mamma... guarda... si, 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 si... è lui... ... ma... io non lo vedo neanche arrivare ah ok ok adesso va detto rave reporting along my way ETA 30 seconds ok 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 Sì, ti siederesti mai su quel cazzo di sedile lì? Una lastra di metallo sospesa per aria senza neanche cintura. Se sei un romo vero prendi anche gli altri. 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 Stavo guardando i colpi. Non c'è niente che ti dice quali siano meglio di altri. Un romo vero prendi anche gli altri.